Ben ritrovati con il nostro appuntamento di curva bianco-blu, a questo pomeriggio parliamo del Como, ma non parliamo della prima squadra, o meglio facciamo qualche accenno alla prima squadra, ferma ieri, turno di riposo l'ultimo, prima della fase finale del campionato, le ultime giornate che scattano proprio domenica, quella trasferta a Venezia del Como, una trasferta molto importante e poi ci saranno i play-off, quindi ormai siamo a un passo dal clou di questa stagione per quanto riguarda la prima squadra, oggi comunque non parliamo dei grandi per così dire, perché ieri hanno riposato, quindi non c'è assolutamente nulla di particolare, ma parliamo invece dei giovani, anzi parliamo dei giovanissimi perché il Como sta cercando di lanciare varie iniziative, Sergio Marelli è qui con noi a quest'oggi, uno dei responsabili del settore giovanile, responsabile anche di un progetto particolare, innanzitutto lo saluto, lo ringrazio di essere venuto e la seconda volta che viene a trovarci, ciao Sergio, ben ritrovato, ciao Sergio, siamo anche con la videodiretta, tra l'altro oltre che con la diretta in radio o anche videodiretta sul nostro sito in streaming, grazie al regista Luca Tormasoni che come sempre ci assiste. E allora, detto questo, Sergio andiamo a parlare dunque di questi stage che avete per quanto riguarda i ragazzi, questo progetto tra l'altro che avete presentato proprio nei giorni scorsi, va detto che l'attività di base, l'attività del settore giovanile è quanto mai viva, quanto mai importante e interessante, spiegaci allora che cosa state facendo Sergio? Posso dire che forse stiamo rinascendo con delle iniziative che hanno avuto un grande successo perché il primo incontro che si è tenuto di presentazione il 19 marzo, che è stato un incontro unico nel suo genere perché solo per il parterre degli invitati ha fatto capire bene cosa il calciocomo sta cercando di fare. C'è stata la presentazione dell'attività di base, presentazione dei progetti di collaborazione, ma la cosa unica e speciale è stata che tutta la società era presente, quindi c'era dal presidente Porro, vicepresidente Foti, c'erano tutti i responsabili, comunicazione, adesso non dico tutti noi perché ne dimenticherei qualcuno, però veramente tutti presenti dal direttore sportivo, al ministro della prima squadra, giocatori, c'era Ambrosini e Ardito che li ringrazio, ringrazio tutti per essere stati presenti perché hanno fatto sentire proprio la vicinanza di tutta la società a quello che è l'attività dei più piccoli, quindi la rinascita del calciocomo dai più piccoli è un segnale che è più che mai forte perché questa presenza ce lo fa capire, si sta puntando e questo rapporto anche con la prima squadra, questa volontà è molto sentita e gradita. Peccato Sergio, forse è quello che ci stai dicendo che va a contrastare un po' con quello che è successo negli anni precedenti, perché il settore giovanile purtroppo per qualche anno è stato un po' accantonato, mi passi il termine, adesso come hai detto tu, come ci hanno confermato prima anche Fontolan, Galia, lo stesso Lelio di Palimento, l'ha detto Stampa che è venuto a trovarci, insomma si sta cercando davvero di ripartire, però è una cosa che deve essere… Ci vuole un po' di tempo, io non voglio parlare del passato di questi anni dove io un po' girovagato, ci mancherebbe poi anche attipatico, però io sento dalla vicinanza delle società, sento i commenti delle società e questo è un piacere da parte di tutte le società che amano il calciocomo, questa presenza, questa rinascita come l'ho chiamata prima e non per niente questa volontà nostra ha avuto un seguito che è un po' inaspettato perché è la credibilità, la fiducia, però è stata più una fiducia che le società hanno riposto anche nelle persone, non dico tanto in me ma quanto proprio in Galia, in Fontolan, tutte quelle persone che hanno comunque contribuito e ricordano il calciocomo di un certo… con un settore giovanile credibile, perché poi alla fine in questo calcio qui dove la crisi ormai è latente e anche soprattutto in Lega Pro ovviamente, credo che questa è un'arma importantissima, se tu riesci ad avere un bel settore giovanile, è sempre stata così, però quanto mai importante adesso se tu riesci a fare un bel settore giovanile puoi davvero andare ad attingere a piene mani e magari anche con dei risultati credibili ovviamente. Abbiamo iniziato con delle iniziative proprio di immagine, abbiamo realizzato una brochure fantastica che poi avrò piacere di mostrarti, dove si parla di quello che è il calciocomo, cosa ha rappresentato il calciocomo, il calciocomo è stato uno tra i rivai più importanti a livello nazionale e quindi si è ripartiti da lì, si è fatto capire a tutti, anche i più piccoli, noi abbiamo consegnato a tutti i nostri piccoli atleti una brochure bellissima con foto, immagini, anche alcuni spunti, anche alcune piccole interviste ai giocatori, gli ultimi giovani che sono usciti dal nostro settore giovanile, parlo l'ultimo nostro, parlo della gestione di Centri, di Giancarlo Centri che è una persona a quale tutti noi dobbiamo tantissimo e abbiamo fatto una piccola intervista a Cesare Ambrosini, il suo ricordo, ecco, il suo ricordo… Sì, anche perché tra l'altro Cesare Ambrosini è stato uno dei… è anzi uno dei ragazzi più importanti proprio del settore giovanile dell'ultima generazione, diciamo così Sergio, perché Cesare proprio ce l'ha raccontato lui quando è venuto a trovarci, è comasco, Doc, è cresciuto nel Como ed è un simbolo ormai, è attaccato alla maglia, esatto, è un po' come un Ardito se mi passi il termine, anche se Ardito non è nato proprio nel vivaglio del calcio Como, no Andrea, ma però è diventato un simbolo del Como, no Andrea, e Ambrosini sta diventando la stessa cosa. Ardito io lo ricordo quando era appunto quegli anni, fine 90, 2000, quando eravamo tutti presenti e ha sempre rappresentato qualcosa, Cesare è cresciuto, abbiamo allenato… Cesare è proprio comasco a differenza di Artito… Arriva dall'oratorio, mi ricordo poi nella sua intervista, nel suo insomma così piccolo accenno che ha fatto in quell'incontro di mercoledì 19, ha proprio detto, una volta io avevo la possibilità di essere o al Milan, essere scelto al Milan o al Como, io ho scelto il Como, perché il Como rappresentava qualcosa di importante, no? E quindi questo fa capire quanto lui si è attaccato alla maglia, si è attaccato alla squadra, ecco, perché è cresciuto con noi. Poi abbiamo fatto una piccola intervista a Matteo Bianchetti, che è un'intervista, è un suo commento, il suo ricordo, no? Che adesso sta avendo anche lui una bella carriera, e sono gli ultimi, no? Quelli un po' più importanti che militano Cesare perché è in prima squadra, Matteo perché è nazionale, perché è in Serie A, insomma… Chiaramente, chiaramente il settore giovanile del calcio, come hai detto tu prima, è rappresentato anche da grandissimi nomi che tra l'altro poi si possono anche vedere, alcuni dei quali in questo bellissimo corridoio della memoria che avete inaugurato qualche settimana fa, proprio che porta dallo spogliatoio dello stadio Sinigallia al campo, c'è questo tunnel con dei murales bellissimi, di giocatori importanti e allora Piercovud, Matteoli, Borgonovo, Fusi, insomma ce ne sono tantissimi che poi anche mi sfuggono, questi sono alcuni, solo alcuni dei più clamorosi ovviamente esempi che hanno dato grande lustro al calcio pomo, no Sergio? Assolutamente, noi dobbiamo riuscire a scrivere qualche pagina di storia anche noi, questo è quello che vogliamo fare, siamo tutti impegnati in questo e io dico anche alle società che hanno diritto a questi progetti, il calcio pomo può tornare grande solo se le società vicine a noi sono grandi e si impegnano in questo. Qual è l'importanza di questi progetti, di questi stage che voi state lanciando in relazione però appunto alle società del territorio, società del territorio che da sempre secondo me hanno avuto poi come riferimento quello del calcio pomo, poi purtroppo alcune abbastanza anche di recente hanno scelto di affiliarsi, certo non vuole essere questo un atto d'accusa ci mancherebbe altro, con altre società importanti, esatto parecchie, tra cui tra l'altro te le cito una proprio perché mio figlio ha giocato contro il Villaguardia, tra l'altro ha scelto l'Arsenal per esempio che è una promozione inglese, importante certo, prestigiosa eccetera eccetera e comunque c'è stata questa affiliazione tra l'altro appunto contro, anzi non contro, con l'Arsenal, comunque detto questo si può recuperare il tempo perso? decisamente, decisamente, già partendo da ricostruire dei rapporti, delle amicizie esatto, questo già al prescindere dall'adesione a meno a un progetto o a un altro da parte di queste società, perché lo stesso Villaguardia che tu hai citato, il Presidente è stato da nella presentazione, comunque è vicino, l'importante è che conoscono le scelte, capiscono la nostra l'importanza è che sappiano che il Como sta cercando di ricreare questo settore giovanile poi che stiano alla finestra o che decidano subito di buttarsi in questa vettura insieme a noi, tutto sono decisioni rispettabilissime ma in che cosa consiste questa collaborazione che voi andate a cercare? Parliamo del concreto nel concreto è una collaborazione che parte da un concetto, Caccio Como deve contribuire alla crescita delle società, contribuire alla crescita degli istruttori, che poi tante volte vuol dire solo avere dei confronti all'interno delle società, possono esserci istruttori già molto bravi e competenti, però questo confronto… Beh, ce ne sono parecchi, va detto, assolutamente, e questo è il Como deve riprendere dal punto di vista sportivo comunque, perché in questi anni basta vedere un po' le società che deve essere di punta, anche a livello regionale, è comunque un movimento che deve migliorare, migliorare attraverso la cultura, bisogna migliorare l'istruzione, bisogna migliorare le conoscenze, cioè aggiornarsi, quindi il primo passo è dare a questa società delle opportunità di confronti e di crescita attraverso incontri, abbiamo fatto degli stage formativi in collaborazione con l'Università dell'Insubria che parlano di medicina e ci sono già delle date, il 2 aprile mercoledì ce ne sarà uno in sala azzurra allo stadio, il 15 aprile ce ne sarà un secondo e il 23 aprile l'ultimo per questa stagione, sono degli incontri che devono essere un segnale, ecco, noi l'anno prossimo inizieremo un programma dove tutti questi incontri avranno un senso, una scadenza, una progressione per quanto riguarda i stage formativi, chiaramente sarà in collaborazione dell'Università, per quanto riguarda i clinic tecnici, il primo l'abbiamo fatto questo sabato mattina con 75 struttori presenti, quindi è un grande successo, 15 società presenti e 75 struttori presenti, questi clinic tecnici dovranno avere anche loro una programmazione e aiutare le società a migliorare il lavoro sui campi, se noi riusciamo poi a vedere ragazzini sempre più bravi in questa società e a dare qualcosa loro di importante senza nessun tipo di richiesta economica, perché questo è importante dire, Cacciocomo ha investito in questo, investe negli istruttori che vanno sui campi, gli istruttori sono vostri, gli istruttori sono nostri, fanno questo sabato, quindi voi li mandate in giro? No, in questo caso noi abbiamo fatto un incontro a Grandate e abbiamo invitato gli istruttori, così ce ne sarà uno successivo, dico le date in approfitto, chi ci sta ascoltando lo sa, quello di questo sabato verteva sul possesso della Pala, io e la Pala gioco il gioco individuale, ce ne sarà uno il 12 aprile, invece è più legato al gioco collettivo. Sempre a Grandate, 12 aprile, allora, 12 aprile a Grandate al centro sportivo comunale San Posto di Grandate, c'è un altro a maggio, sulla preparazione atletica e preparazione del portiere, gli istruttori sono i nostri, Mondini Lorenzo, Luca Larghi, Cassano Stefano, Andrea Martarelli, sono gli istruttori dell'attività di base, preparatore atletico è Paolo Maone e preparatore dei portieri è Marco Ferrero, loro saranno impegnati in questo. L'anno prossimo ci saranno comunque tanti, coinvolgeremo anche i nostri istruttori dell'attività agonistica, perché comunque anche loro sono istruttori da Christian Voscolo, Oreste Di Donè, molto preparati, ci saranno Gentilini, quindi sono tutti allenatori molto preparati che contribuiranno a questo progetto. C'è da dire allora sostanzialmente Sergio che avete un gruppo di istruttori, di tecnici decisamente qualificati e preparati, con i quali ecco adesso mi pare di capire, volete gettare le basi per andare a davvero ricostruire questo settore giovanile. Un settore giovanile come quello del Como, come quello di altre società anche a livello professionistico, parte proprio, correggimi se sbaglio, dall'attività di base, cioè nel senso che bisogna partire dai cucini, dai giovanissimi, dagli esordienti, per arrivare poi alla Berretti, ovviamente che quest'anno lo ricordiamo è affidata a Beppe Bergomi, e per poi arrivare più avanti. Però ecco, la cosa più importante è proprio quello. E forse più importante però ancora una volta, quello che dicevamo anche quando siamo venuti a trovarci la volta scorsa, è far capire a questi ragazzini, giovani, giovanissimi, che comunque anche se poi il Como ti addocchia, ti mette gli occhi addosso, insomma ti viene a vedere, o ti dà la possibilità di andare a provare, non sei arrivato a 10, 12 anni, 13 anni ovviamente, no, però questo è molto importante, credo che la difficoltà... Questa è la bravura degli istruttori, di noi, di riuscire a non illudere nessuno, e dire che si hanno dei talenti nati sui quali costruirci, sono delle potenzialità, poi lavorandoci possono diventare capacità, l'importante è farlo in serenità, con tanto impegno e sacrificio, perché poi sono tanti sacrifici, ma non vuol dire nulla, questo non vuol dire... la cosa più importante nel messaggio che deve arrivare è che prima di tutto bisogna diventare uomini e poi magari anche calciatori, quindi l'educazione, il rispetto, le regole, impegnarsi per qualcosa di comune, perché poi il gioco di squadra è questo, no, che ti dà... Questo è molto importante, sono regole basiche, voi comunque insistete molto nei ragazzi vostri che sono a disposizione, no? Come la scuola, la scuola, chi prende tutti i voti viene comunque magari per una piccola punizione, una partita, salta una partita, piuttosto che ne salta due, anche a livello professionistico, e non è una scelta di tutti, però chi ha avuto delle... ma c'è un discorso anche legato all'impegno che non può essere, per la scuola, è la prima cosa, no? Cioè, assolutamente sì, sostanzialmente non vai bene a scuola, non ti impegni molto, equivale al fatto di quasi come non aver fatto l'allenamento, quindi puoi restare fuori al sabato e non giochi. È una regola, è una nostra regola. Beh, questa è una regola che, come hai detto, però forse non so se vale per tutti, però... No, non è per tutti, non vale, però è importante, è un segnale fondamentale. E i ragazzi come l'hanno recepita questa cosa? Ma credo bene, i segnali... i ragazzi quando si trovano di fronte a persone coerenti, che danno, io penso, che tracciano una linea e capiscono l'impegno di queste persone, loro danno il massimo e rispondono sempre in maniera positiva, è un'equazione proprio perfetta. A ragazzi che si trovano di fronte comunque a degli istruttori, come dicevi tu, appunto, ma anche dei tecnici decisamente importanti, qualificati, tu hai citato prima Boscolo, hai citato Didonet, Fontolan, non vorrei dimenticare, Galia, esattamente, cioè c'è comunque buona parte anche del como passato, ovviamente, che adesso si sta occupando a tempo pieno, praticamente, no? Quanto è il vostro impegno? L'impegno è giornaliero, perché poi quello che si vede sui campi è la punta dell'iceberg, poi c'è tutto un lavoro di comunicazione, di preparazione, adesso stiamo preparando, al di là di questi incontri, si stanno preparando anche le squadre per l'anno prossimo, al prossimo dovremmo inserire una squadra in più, che è quella del 2005, ma non per fare una corsa al bambino sempre più, è perché comunque la formazione dei pulcini esordienti è fondamentale, dico, lì si costruisce tanto, è terreno fertile, no? E loro sono delle spugne, anche giovanissime, però quell'età, le fasi sensibili, è il momento migliore. Se un ragazzino all'interno della propria società ha una capacità così spiccata rispetto agli altri, è una sua maturazione. Tu cosa intendi per spiccare? No, facciamo capire, magari chi ci sta ascoltando, Sergio, perché… È più una questione, non è solo una questione tecnica, è una questione di maturazione a 360 gradi, quindi la spera psicologica, la personalità, la tecnica sicuramente, la fisicità, ci sono vari aspetti. Tante volte questi ragazzini, poi ti fai un po' l'occhio, devi capire in collaborazione con società, perché adesso stiamo già preparando queste cose, io quando parlo con i responsali delle società, proprio chiedo quasi consiglio, il ragazzo com'è, 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 deve essere maturo per fare una scelta di questo tipo, non deve avere solo una qualità spiccata e punto, se rimane in una società dove magari questa sua lo porta a rilassarsi, ha un'involuzione, deve misurarsi a un livello più alto, questo che in tutti i settori… E in questo caso cosa succede, Sergio? Lo portate… In questo caso se la società è d'accordo, si trova il modo di portarlo e inserirlo nelle squadre, per quello iniziamo a fare anche la squadra del 2005, perché è già un'età dove queste cose sono importanti e bisogna lavorare a un certo livello, quindi è bene per il ragazzo, bisogna sempre mettere lui al centro di tutto, farlo con gli ultimi modi, non illudere quindi nella famiglia né lui, però lavorare divertendosi con un livello differente, dettato principalmente dalla qualità dei compagni che ha vicino a lui. E lui sa che ovviamente, certo che si diverte, certo che però diventa poi un impegno importante anche per il ragazzino, che a qualità comunque si va a confrontare con compagni di tecnica e di qualità certamente magari superiori e con una società che insomma ha una sua bella base importante, quindi anche per loro, è una responsabilità anche per questi ragazzini. Sì, però è una responsabilità, diciamo, hanno magari anche la distanza stessa ti porta a fare più sacrifici, però è anche un gran divertimento, è un grande stimolo, quindi ragazzi è sempre come trasmetti le cose che è fondamentale, noi abbiamo per adesso veramente ottimi, ci sono ottimi presupposti per far bene, stiamo lavorando… Quindi sei fiducioso Sergio, non parli di capire… Sì, siamo fiduciosi perché le persone che si sono avvicinate a noi in questo periodo hanno risposto in maniera… poi ci sono sempre quelli che cantano fuori dal coro, però la maggior parte ha risposto in maniera veramente entusiasta, ha capito i nostri obiettivi, vuole partecipare, a contribuire, perché è una… se il calcio come cresce crescono tutti, cioè se diciamo che sei un po' la mamma, la sua professionistica della provincia deve comunque contribuire alla crescita delle altre e più cresce, più crescono gli altri, è inevitabile. Cosa ti senti di dire allora a chi ci sta ascoltando, ci sta vedendo in questo momento, ripeto siamo anche con la video diretta in streaming sul nostro sito, a chi ci sta ascoltando, magari a qualche dirigente di società, appunto a qualche altra società che magari ancora forse magari non si è avvicinata a questi vostri progetti che state portando avanti, ormai da un paio d'anni. Sì, no, questo progetto è di quest'anno, abbiamo iniziato, diciamo che l'anno scorso è stata una partenza, questo anno da settembre abbiamo ricominciato, poi io personalmente è da settembre che lavoro in questa direzione, non allenando e facendo questo. Cosa dire? Dire le porte del calcio como sono aperte, noi abbiamo voglia di crescere insieme a loro, chiaro che poi anche noi in questa logica dei progetti dovremmo fare delle scelte sulle società e le faremo, le faremo con dei criteri, dei criteri che devono essere dei criteri soprattutto legati alle persone, ma anche comunque a quella che è la struttura, quello che è lo storico, il background di ogni società, quella che è la volontà della società, cioè quelli che sono i principi. Io ho quello che voglio, anche perché nei progetti noi diamo la possibilità a queste società, sono due progetti differenti, poi magari una prossima volta li spieghiamo se volete, volentieri, nei dettagli, però diamo comunque dei marchi. Nei marchi che possono apporre sulle loro maglie c'è il simbolo del calcio como e quindi il simbolo del calcio como per noi oggi è qualcosa che va meritato, è una cosa che vale tantissimo e devono rispettarlo, rispettarlo attraverso un'educazione di un certo tipo, non tanto per la vittoria sul campo, non è una vittoria in termini di score, è una vittoria di comportamenti, di regole, di cosa si insegna. Io se vado su dei campi di calcio, non ricordo il risultato, ricordo il bel gesto del ragazzino, ricordo magari un allenatore che dice delle belle cose e lo posso ricordo anche. Esatto, c'è anche qualcuno che fa questi bei gesti, che fa queste belle cose, che insegna anche la sportività, anche a stringersi le mani prima della partita, dopo la partita, ci sono ancora, se Dio vuole. Ci sono, ci sono anche bravi istruttori, ci sono, però bisogna migliorare, diciamo così. Perfetto, quindi entro quanto potremmo, secondo te, rivedere un settore giovanile a tutto tondo come quello che era negli anni scorsi, dove poi alla fine anche tanti allenatori andavano a pescare a piene mani nella formazione di primavera, in quel caso, adesso potrebbe essere la Beretti ovviamente, ci vorrà ancora diversi anni? Diversi anni, io dico, in un'intervista a Roberto Galia diceva, per vedere qualche giocatore in prima squadra, quanti anni ci vogliono. Gli avevamo chiesto quando era venuto qua a trovarci. Lui dice cinque anni, io sono più ottimista, di natura dico tre, tra tre anni spero di risiedermi qua e dire adesso abbiamo un bel settore giovanile, le squadre si dimostrano e meritano e fanno vedere cosa vuol dire essere nel calcio poma. Beh, almeno comunque tre, quattro anni ci vogliono tutti comunque ancora. Beh sì, io dico tre anni, sì, perché l'anno prossimo sarà ancora un anno particolare, ma per tutta la società, di assestamento, di sistemazione, una squadra nuova, quindi l'anno prossimo così, dico già fra due anni si potrà iniziare a vedere qualcosa di buono, fra tre anni penso che saremmo. Perfetto, ce l'auguriamo, speriamo che sia davvero anche un bel augurio per quanto riguarda appunto questo settore giovanile. Senti, un'ultima cosa, velocissima, non abbiamo questa sera ovviamente fatto menzione della prima squadra, ieri a riposo, si riparte domenica, poi i play-off, tu come la vedi? Dai, dammi un giudizio veloce, Sergio. Guarda, io la vedo, sono molto, vabbè, ripeto, mi ripeto, sono un'ultima, però vedo, ho delle buone sensazioni perché vedo un gruppo affiatato, vedo un gruppo bello, il lavoro secondo me c'è sul campo, il mister sta facendo un ottimo lavoro, c'è Samuel Robione, mentre il treno è che ha un rapporto con i gruppi, con la squadra di un certo tipo, il preparatore è una persona serissima, vedo tante persone competenti che girano, ma anche davvero, e il direttore sportivo è attento, perché è dolci, e quindi poi il calcio se non si può prevedere, però stanno lavorando bene, e quella è la partenza, se lavori bene poi i risultati arrivano, quindi di più non... No, no, ma ci mancherebbe, la scaramanzia ovviamente, il calcio progumento non è una scienza esatta, ma comunque mi fai capire che c'è una buona base sulla quale puoi poter andare a giocarsi questi play-off finali. Secondo me sì. Allora, un grazie a Sergio Marelli per essere venuto qui con noi quest'oggi, a Curva Bianco-Blu, dedicata al settore giovanile, mi fa piacere ovviamente poi ospitarvi quando c'è la possibilità, perché è giusto e importante parlare anche di queste cose, buon lavoro a te Sergio, a tutti i tuoi colleghi e collaboratori del settore giovanile, noi ci fermiamo qui, grazie a Luca Tomasoni, il nostro regista, con...